Partire? Pronti? Allora iniziamo subito. Prima MASH, primo sconosciuto, mille euro per ogni anno che sbaglierete. Prima MASH! Davide! Buongiorno a Davide! Puoi fare un sorriso? Pazzo riso, ma è una parola oggi, ma oggi puoi alzare le braccia? Mani in alto o che altro? Ok! Davide, un giro su te stesso? Perfetto Davide! Bravo Davide! Va bene! Perfetto! Allora secondo me hai... 35 o 45? No, più di più! Che è? La patente? C'è! E' più! Che è? No! Cosa? Aspetta un attimo, non mi riesce a cercare... Stai a cercare qualcosa? Sì? No? E... Ma poi ti sei perso qualcosa? E non sono... Porca misera, sei perso qualcosa, un attimino perché... Cerca, cerca, ma guarda un po'. Sì, sì, fai tranquillo, vai! A destra dell'alto, sei o tanto? Perché te sei perso? No, meno. Dimmi a orecchio. Ma perché sono... Eh, lì, te posso dare una mano io, te lo dico, eh? Grazie, sì. Sto lavorando Davide, che lo sto lavorando, eh? Vabbè? Sì, sì, sì. Vabbè? Sì, sì. Eh, vedere da parte il pommino che iniziamo subito. Allora, quanti anni ha Davide? Guarda! Guarda! Siamo... E siamo... Cominciando in qualche tiro, dai! Guarda! 46! 46! Andiamo a vedere! C'è una spicci, Davide! Allora, andiamo a vedere! C'è veramente Davide! A 46 anni! C'è tutto aperto, guardate, tutto! Tutte le opzioni! Facciamo cronaca? Sì, cronaca! Sì, c'è una cronaca! C'è una cronaca! È due da cinque, va bene? Due da cinque! C'è un bottone! Quando nasceva Davide, detto il Tuca-Puca, nel mondo accadeva questo! A New York, John Lennon non viene assassinato da un folle! Questo era veramente un aiuto importante, perché quando John Lennon viene assassinato, quando, in che anno, non è difficile... di un aiuto, di un attimo di, un Imma, di tornare! Ciao! Dott恩way! C'è una 37! Eci... Veniva assassinato John Lennon, e nasceva Davide! 33! ще... 6, 5! і save! 30? 7! 37! E NESE... Sette! 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 Davide, hai 37 anni? Sì o no? No. Andiamo a vedere di quanto mi siete sbagliati. 100.000 sono il bimbo, purtroppo devo le varie. 2.000 euro. Allora, 1.000 euro un anno. 2.000 euro due anni. Eeeh! O ne ha 34. No, 35. Ah, 30, scusate, perché io matematica lo ripeto. Come vede, prova? Ho avuto dei grossi problemi a scuola. Guardate, ce n'è 35. Oppure 39. 39, 39. E tu hai? 39. 39! Senti, Davide, io c'ho due curiosità. La prima, che stai cercando il Paschino. E il biglietto di ritorno per bussar stizio. No, non c'è credo. No, è per lì, ve lo fai vedere. È uno scherzo. No, non è uno scherzo. L'hai perso? No. No. Davvero le fai vedere. Ah, ce l'ha. Oh, stazio. Ah, hai capito? È per due. Con chi torni? Solo, solo. Sì, solo. Solo due. Posso fare un saluto? No. Te devi dichiarare un secondo a che viene con te? Chi è? Chi te sei, mamma? Sei senzato? Sposato con Elisabetta. Che tazette? Ci te toglievo che io non lo sapevo. Scusate, ma è un biglietto, signora. Come si chiama? Elisabetta. Ecco, tu ricordi. Elisabetta. Un biglietto solo, giocavo. Allora, ora voi salutate. Sì, la gioia della mia vita. Che mi ha dato? Mia figlia, Serena Valentina. Perché te sei presentato? È una vita che io volevo stringerti la mano. Eh, un torsigevo, eh. Salutiamo, come si chiama? Ciao Elisabetta e Serena Valentina, se la gioia della mia vita. Serena Valentina, quanti anni ha? Nata l'8 settembre 2018. Assolutamente. Senti, Davide, ricco, mi andate via. Davide, ma cosa fai della vita? Faccio un lavoro che raddoppia in quanto corrente il consulente finanziario. No, raddoppia. Posso dire una cosa? Una ceppa raddoppia. Non te lo posso dire. Il consulente finanziario raddoppia niente. Che te raddoppia? Però aspetta, aspetta, che siano raddoppi. Aspetta un attimo, che siano raddoppi, tutto io ho vinto. Grazie, Bargimato. Dai, grazie, grazie. Porto di Italia.